Ciao a tutti, siamo Simon & Simon, io sono Simona e io sono Simone. Questo video sarà interamente in inglese, ma potete attivare i sottotitoli in italiano. Vogliamo appoggiare per il nostro inglese, ma in effetti siamo iutubi italiani e questo è il nostro primo video in un linguaggio foreign, ma non preoccupate, puoi attivare i subtitoli inglesi. Grazie a tutti che precedono noi e a tutti che seguiranno nella realizzazione della stazione collaborazione. Il nostro modulo modulo è un modulo semplice, un veicolo che muove gli altri componenti. È equipato con docking parts di diversi strumenti e un claw per dock a ogni piece, anche un asteroide se necessario. Il rocchio sarà pilota dal nostro alter ego, che speriamo che non muovere. Oggi la manuvera dell'Arbit insertion è abbastanza standard, abbiamo deciso di spedarlo un po' un po' Potete ancora trovare il video con no cuts nella descrizione. Detachiamo la prima fase. Iniziamo il turno di gravità. Iniziamo il turno. E poi detachiamo la seconda fase. Vediamo come l'Arbit è arrivata. Iniziamo il turno. Iniziamo il turno. Iniziamo il turno. Iniziamo la prima fase. Iniziamo la prima fase. Iniziamo a fare cose da l'arbitore, senza troppo calcolare. Vediamo se è successo. Inizialmente un randello. Come successo. Un'adjustamento minori e siamo terminati. Per esempio. La manuvera è buona. Per esempio, questo è la manuvera. Prima di essere. Per esempio, il randello è buono. Per esempio, la manuvera è buona. Vediamo la manuvera. node. We turn on the engines and perform the manoeuvre. We extend the solar panels. This time I remember them! Since the operation is long, we accelerate a bit. Lunico Speed! Lunico Speed! Lunico Speed! Lunico Speed! Lunico Speed! Arriba la luna potete vedere il network satellite da Gloomfworks. Abbiamo creato il nodo manoeuvre per circularare l'orbitro allo luna. Abbiamo orientato noi per il manoeuvre. Abbiamo creato l'orbitro all'orbitro all'orbitro. Abbiamo creato l'orbitro all'orbitro allo luna. Abbiamo creato un altro manoeuvre per correttare l'inclinazione. Abbiamo creato l'orbitro all'orbitro all'orbitro. Abbiamo creato l'orbitro all'orbitro all'orbitro all'orbitro. Abbiamo creato l'orbitro all'orbitro allo luna. L'orbitro all'orbitro è a full throttle per cancellare il delta V. Possiamo già vedere la stazione Sto passando direttamente verso la stazione Sto passando meno di 1 km Sto passando 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 Get closer slowly Here we are, I'm braking I'm setting the knocking part as target Detach the tank, now it's no longer needed Did you realize that you don't have a docking port in front of the tug? Oh sheep, don't worry, I'll use the claw I would like to point out that you have just hit Scott Nobody saw anything Docked! Collaboration station in all its glory It remains to de-orbit the tank that I unplugged before You could even make it land on moon Well, almost We leave the station in good hands Now it's up to tape gaming